A Pasqua, dietro al bancone, Treviso ha registrato tra ristorazione ed ospitalità turistica il tutto esaurito. Ascom Confcommercio ha certificato aperture di almeno il 78% delle attività. Per la giornata di oggi è prevista una spesa media di 50 euro bevande incluse per quanto riguarda il mondo dell'offerta della ristorazione, ma si può facilmente spendere di meno e evidentemente anche di più. Mentre per l'accoglienza turistica, per l'ospitalità è prevista una spesa media di 100 euro, dai 100 ai 130 euro a notte per un pernottamento medio di due giorni, due notti ecco. Un trend in linea con il 2023 anno del post-covid che ha registrato una crescita importante del settore. A non aiutare il comparto con le federazioni del campo alimentare, il meteo ballerino che ha favorito l'acquisto last minute sia delle vacanze che delle materie prime per il pranzo pasquale. Listini ritoccati con un'inflazione che oggi si attesta intorno allo 0,8%. Sono stati degli aggiustamenti di listino inevitabili perché nello scorso anno abbiamo visto una inflazione galoppare anche a due cifre e quindi è stato inevitabile che ci fosse una ricaduta nei listini. Ed è anche per questo che c'è un segnale di aumento quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, un leve aumento rispetto allo scorso anno dovuto in parte anche a questo adeguamento dei listini. Sul fronte delle polemiche sollevate da alcuni commercianti che hanno chiesto un confronto con l'assessorato alle attività produttive del comune di Treviso per rendere più attrattiva la città durante la settimana, la presidente Dania Sartorato rilancia sulla residenzialità. Affitti troppo cari e pochi immobili allontanano trevigiani e studenti dal centro storico. Laddove ci sono i residenti, quindi c'è tutto il tema della residenzialità, dove ci sono i residenzi lavorano anche i negozi alimentari, lavorano anche i negozi di telefonia, la vendita di computer perché ci sono gli studenti che hanno esigenze di servizi. Ecco, il tema degli studenti porta con sé tutta una serie di servizi annessi.